Si è conclusa con successo l'edizione 2022 di Start Cup Marche. Nei giorni scorsi il benvenuto alle matricole dei corsi di laurea della sede di Ascoli Piceno e Matelica. Tre giorni di eventi per comunicare la matematica. Anche quest'anno Unicam presente a Fermamente, il Festival della Scienza di Fermo. Buonasera e benvenuti a questa puntata di Unicam News. Vediamo insieme il primo servizio. 12 progetti presentati, 3 vincitori, 4 Atenei in sinergia, 4 sponsor sostenitori. Questi numeri dell'edizione 2022 di Start Cup Marche, la business plan competition ideata da Unicam, è realizzata anche quest'anno in collaborazione tra tutte e quattro le università delle Marche, dando così modo ai giovani studenti e laureati di intraprendere un auspicato percorso di autoimprenditorialità, che porterà benefici sia per il loro futuro lavorativo e professionale, sia per il territorio. Start Cup Marche è realizzata insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e ha anche il sostegno di Intesa San Paolo, ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Macerata e Camerino e Unicam. Ad aggiudicarsi il primo premio è stato il progetto Live Information System SRL, proposto da Seferi Rifat dell'Università Politecnica delle Marche, al secondo posto Beerist, presentato da Maria Giulia Paternò dell'Università di Camerino e al terzo posto Univillage, presentato da Carletti Nicole e Ayub Benjafar dell'Università di Macerata. Si è conclusa questa edizione della Start Cup Marche 2022. Anche quest'anno l'evento è stato impreziosito dal coordinamento e dalla partecipazione attiva di tutte e quattro università marchigiane perché obiettivamente si deve riconoscere che ognuna delle università porta con sé delle competenze che sono specifiche quindi essere uniti oggi a sentire i giovani ragazzi, i nostri giovani studenti che si cimentano su idee e attività imprenditoriali tra di loro le più disparate è un motivo d'orgoglio che non deve essere solamente per Unicam ma deve essere per tutta la regione. Avranno tutto il nostro supporto perché adesso diciamo si dovranno confrontare a livello nazionale con i loro colleghi che dalle altre regioni italiane si affronteranno in un evento finale che si terrà a novembre all'Aquila presso l'Università dell'Aquila per il premio PNI Cube 2022. Nei giorni scorsi l'Università di Camerino ha dato il benvenuto alle nuove studentesse e ai nuovi studenti che hanno scelto i corsi di lauree attivati presso la sede di Ascoli Piceno per la Scuola di Architettura e Design e presso la sede di Matelica per il corso di laurea magistrale e a ciclo unico in medicina veterinaria ed il corso di laurea in tecnico del benessere animale e delle produzioni. Le ragazze di ragazzi sono stati accolti tra gli altri dal rettore Claudio Pettinari e dalla delegata al tutorato Loredana Cappellacci per poi essere accompagnati da docenti e personale tecnico e amministrativo nelle rispettive sedi. Grazie alle giornate di ambientamento per le matricole, infatti il servizio tutorato di Unicam vuole facilitare l'inserimento delle nuove studentesse e dei nuovi studenti nella realtà universitaria e fornire loro gli strumenti utili per affrontare senza problemi gli studi. Dal 12 al 14 ottobre si è tenuta in modalità telematica la quarta edizione del convegno Comunicare la Matematica promosso dalla sezione di Matematica della Scuola di Scienze e Tecnologie di Unicam. Sono stati moltissimi coloro che si sono collegati nel corso dei tre giorni nei quali si sono alternati relatori di grande spessore, esperti ricercatori, scrittori, fumettisti. Un'importante occasione quindi ricca di spunti e riflessioni per discutere su come comunicare al meglio la matematica ad un pubblico più ampio il possibile con l'obiettivo di avvicinare i giovani alle scienze per scoprire tutto il bello della ricerca scientifica. Anche quest'anno l'Università di Camerino non ha voluto mancare all'appuntamento con Fermamente, il festival della scienza di fermo che si è tenuto dal 20 al 23 ottobre. Le ricercatrici di Ricercatori Unicam hanno proposto sia attività rivolte ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie e superiori, collaboratori di informatica e beni culturali, sia al grande pubblico, con incontri e seminari sulla conservazione e restauro dei beni culturali e sulle contaminazioni tra arte e informatica. Evento Clou è stata la Performance Pennellate di Scienza, un viaggio nelle contaminazioni tra scienza e arte, attraverso famose opere pittoriche, insieme a Giulia Castagnani, Diletta Piatti, Agnese Sant'Anatoglia, Antonino Marino, Jessica Piccioni, studentesse e studenti e dottorande Unicam con le incursioni dello storico dell'arte Alessandro Delpriori, la chimica del prof Claudio Pettinari e gli esperimenti esplosivi del prof Corrado Di Nicola. Questa puntata di Unicam News termina qui. Per essere sempre aggiornati sulle attività di Unicam, vi invitiamo a consultare il sito web di Ateneo, nonché la pagina Facebook istituzionale Unicam Università degli Studi di Camerino, www.unicam.it. Ateneo, vi invitiamo a consultare il sito web di Ateneo,